Benvenuti ad un nuovo video, io sono Lele Games e oggi siamo qui per fare una partita a COD Volevamo io e altri due amici miei fare una partita molto sdruvo Sof, ma che città è qua? Eh, vogliono fare l'intro No No, eh? No Bella a tutti i ragazzi, qui Lele Games e bentornati al mio canale Oggi sono qui con... Vieni qua Sbf Con Sof Dovella? Dov'è Dante? Dante, ma io l'avevo sotterrato in giardino Lo picchi tu? Sì No Allora ragazzi, siamo qui oggi per fare un video insieme e per collaudare il nostro nuovo canale Allora, principalmente io mi occuperò dei giochi per il PC, quindi titoli che voi conoscete Però vorrei partire con Oblivion, un RPG che tutti conoscerete, il prequel di Skyrim Lui? Io partirò maggiormente con i giochi Xbox, perché io uso i più, tipo anche Castlevania, Forza Motorsport, anche se GTA V GTA V, anche se non è... Forza Motorsport o non è normale? Il 4 Eh, allora cacchio, dai Eh, o usiamo maggiormente questi giochi qua, della Xbox E mentre ragazzi, mi occuperò della Sony, PlayStation 4, e basta Quello che fa già normalmente, in effetti Questo video ragazzi, si caricherà automaticamente sul mio canale Lele Games, però andrà a finire anche come primo video del nostro nuovo canale Appunto quando... Vinti e i fan di Moments che dopo vedrete I fan di Moments sono epici, non vi preoccupate E niente ragazzi, io vi lascio qui e per adesso, godetevi il video e... A tra poco Evitate le sclenate Eccoci qui ragazzi su Black Ops 2 Zombies Finalmente, visto che mi avete scattravitato le palle ogni volta Facciamo Call of Duty Ovviamente c'è qui con me solo pedante come prima, ovviamente Perché sennò... Oh yeah! Siamo ancora qui! Vabbè Purtroppo Ragazzi, andiamo avanti Locale Allora Come mappa facciamo? Città Normale No, la mappa Eh, facciamo città Una facile perché io faccio schifo Vabbè ragazzi, non ci fate caso Questa è facile, questa è facile Ok Non ci fate sopra A parte che ci stanno cose di fuori Fai... Facciamo i provi, facciamo l'originale Allora, ciao Ragazzi, vi avverto Starò per rendimento a terra Non fa niente Se vedete uno dormito... E un attimo, 5 secondi Capito, parmi sempre Ok Fatti non più niente Allora Allora, non iniziamo Vabbè, andiamo a posto Iniziamo ragazzi Dante, ti risotterro nel giardino Ah, il suo nome non è Sons of Petriot Specificato Sop Sop È universale ormai il soprannome Allora ragazzi Adesso vorrei dire una cosa Questa mappa è molto piccola Perché è piccola È bastarda È bastarda Perché c'è quel cazzo di fuoco Che ti fa girare le palle ogni 3 secondi Però C'è fuoco C'è fuoco C'è molto fuoco C'è tanto tanto fuoco Ok ragazzi Allora C'è ragione Ah, io dovrei essere quello a destra In angolo o in alto a destra Io in alto a sinistra E invece Sop Stava in basso Apposto E già sto bruciando Bello, brucio Brucio Ma può essere che becco fuoco? Dove siete ragazzi? Non puoi per cazzo Perché mi perdo già? Perché tu devi star solo Sei cattivo Ah, ecco, grazie Abbandonatemi gli zombie Bello Allora Ok ragazzi La scatola è qui Dove c'è la volta Ah dai Cominciamo bene Che è sto lobo? Ah, l'apide Mi fa piacere Che è sto lobo? Ma è buono Perché ma Braille Quando muori Ti salva tutto quanto Pronto Ma chi è che sono saltato avanti? Ci saranno i Che cazzo sto facendo? Ci saranno i pro Di Calutete che staranno dicendo Capitano Ovvio Perché loro Mentre sono i pro Vabbè noi spieghiamo In due colpi È morto questo qua Ma che pizzo Birra analcolica Ottimo Ma perché è morto? Ah no, ok Zombie Oh, bello Ma perché? Lui già con le granate Partiamo subito Parte già con le granate Nel tuo sbiano Al primo raro Tu sei brutto Mamma mi ha detto Di non parlare Con gli sposassuti Quindi tu sei brutto Ah, esplodi pure Che ragazzi Io c'ho mille punti Io quasi quasi Io ce l'ho 710 Però non so Io vado Non so come vado Aspetta io so il bianco Specifichiamo Tante è il blu E so per il giallo E so per il giallo Sì Ho anche il joystick rosa Tante non farei nazista Ho il joystick rosa Che è molto fashionable Vero Ma gli è sto poco Tento Come è Faisibile Salutiamo la nostra amica Lucrezia Che ha fatto il doppiaggio Degli zombie In questo gioco Io prendo fuoco E non vedo nessuno zombie Ecco Ah no Mi pareva uno zombie Stavo per sparare Uno zombie No zombie No zombie No zombie No zombie E zomba No zombie Zomba significa Le marche saltare Facciamo anche il dialetto Facciamo conoscere anche il dialetto Marchigato Ovviamente le marche sono un'ottima terra Perché chiunque vuole venire in vacanza Ci fa girare l'economia Grazie Ok Allora io Io vado a fuoco Comunque Io Al terzo rato Devi saltare Sopo Quando vai su fuoco In al terzo rato Prendo la scatoletta Sì ma dov'è la cosa delle armi Eh dove c'è Aspetta dove sei Sopo Vieni con me Ma non lo so Sto vagando Vanno a prendere È il problema che non so dov'è Io vedo fuoco E zero zombie Cioè da un lato è meglio Aspettate un attimo ragazzi Ci sono capito di un pifo Dov'è il suo Morici Eccomi Ok vieni qua con me Vieni con me Tu Dove sto andando Eh seguimi C'è un'altra Questa qua Ma perché così deficienti Dante è zitto Questa qua Tu sei Questa qua è la scatola All'armi casuale Tu premendo qua Pagando 950 Prendi una C'è una solo 710 Un'arma random Sì grazie Non mi stai Andando mi stai facendo Perché cazzo non c'è più corti La birra analcolica Cosa serve Ok Vado anche io con le granate Bah Oh Munizioni Aspetta Ma fai ricaricare Dante la pistolina Che cacchio te ne preme Tanto tempo la dovevi rilasciare Poi fa un zacco E quindi quella pistolina No Granata granata Sì ma è di mirata Non usare granate So Troppo tardi Ah ragazzi In questo video contiamo Almeno di arrivare al quindicesimo Dai Bella battuta Io te Io te L'elevviamo un po' di giorni fa R'arrivate al 31esimo E' arrivato da solo Perché io morivo sempre Esatto E' il dettaglio Esplode Zombie So zombie Ok ragazzi io prendo l'armina Io pure Arrivo Chi è che sta prendendo fuoco? Io? Ovviamente Chi vuole che prenda fuoco? No mi stava correndo Mi giuro che mi si esce un'arma di merda Eh dai Decente Da adesso E' accettabile E' grande come mio nipote però E che gli fa? L'importante è che spara per il resto Che cazzo dico? Ma tu c'è un culo Nella malattia? Eh il type 25 Eh che mi è capitato là Oh guarda che il type 25 è come il commando Più o meno di Aspetta un attimo Ma non mi ricordo Me lo sento Me li sento Ma 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 vedi già correndo Allora Vado a fuoco Sto prendendo botte dagli zombie Cazzo Stai arrivando qualcun'altro O io mi invito a fare Un giro Sopra terra Io l'avevo detto No 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 Statemi lontano Oh Dante ti ho raccontato una cosa Una volta stavo giocando Una volta stavo giocando con Marco Mi ascolti Una volta stavo giocando con Marco Dante mi stai E c'era uno online che si chiama Banana John? No no Banana Ma perché non riesco a comprare E' andato a terra E dice Marco ti senti Banana a terra Lo scivolate Oh ma tu scappi fuori Ragazzi C'è Ci conviene che apriamo Tra un po' di nuovo Ripariamo Posso comprarmi Dove sono? Perché io vado? Allora soppi Vieni qua Dove stai tu soppi Devo prendere un'arma Chi sei tu? Oh Che cazzo è questo? Dove stai soppi Ho metto un colpo Soppi Non so sto vagazio Zombie 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 Sì ma è ambiente di un po' nella vaffa però Perché E' un attimo Oriente Vieni qua Sì qui a me Qua ti sto avanti Sì qui a me Ok io ho un pro Ok io ho un pro Io ho un pro Io ho un pro Io ho un pro Chi sei? Ah ciao Perché hai preso Dal Galil Galil ragazzi che ricordiamo c'era anche in 2 Cops 1 Perché Galil ovviamente Aiuto Porca puttana che spavento Dove stai È in centro praticamente Dove c'è il paga pancia Un attimo che c'è il negozio Zara Ce lo passa un attimo Zara Sopr non va nel fine del tuo merdo ignoto Cazzo Vabbè Ah attenti oh Chi è questo qua? Ah oh Sopr attento Ti guardi lui che guarda me Invece di guardare i zombie Sei caruccio dai Sopr Dai te vado a coprir tu Assalto Passa la passola Dai ci sono Stagione animando Dai che sono carico Per 2 È già finito rando Che bello Oh yeah Cioè non lo so Io sto sparando Per questo Non ci fosse un umano Bravo no Lele Aiuto 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 Apri 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 Lele Ah sono io l'unico vivo? Sì Io ti posso coprir Perché te ho già distante Dai Ah tu è distante? Sì pure io Quello che sto facendo Però sto a terra Tanto per cambiare Eccola Cambio la Salvatina Sob Ok Lele Games ti sta all'animando Dov'è che hai aperto? Eh? L'hai aperto qua Ah ragazzi siamo su Xbox Perché non siete forse accorto Perché Stiamo a casa mia Esatto Siamo su Xbox 360 Ragazzi Cosa? Oh Lele Apri il bar Ma c'è un 1300 Io c'ho un 1800 E Sob c'è un 1400 Valla per lui Siamo so Ponte a giocare Ma Vabbè se ne uccidiamo ancora un po' di zombie Io sto parlando di fine munizioni Quindi Ci tengo Sto un po' nella cacca Ok Adesso 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 Sì ma perché io sto da solo in un ambiente brutto? Tu Sob vedi Oh Qui va di nero Cioè non lo so Qui mi sbucano fuori dal nulla C'è che c'è il boom C'è il boom ragazzi C'è il boom Ok bravissimi Ah Ma che cazzo è? E muoiono E ci muoiono male E mica tanto C'è uno che continua a farmi un walk davanti Wow Che va un attimo Che ragazzi io sto Leggermente Lei devi aprire per forte Oh Che c'è sta che cosa? Chiudi tutto là c'è sta Carpentiere Son morto Yeah Ma quello è zio Michele Non posso uccidere zio Michele Ragazzi sono morto perché c'erano due Ma non così in due Ok dai ragazzi però La partita potrebbe finire molto Oddio che cazzo stiamo facendo Non l'ho visto arrivare Stavo aprendo la cassa Sei round Dai rifacciamo Rifacciamo Ragazzi sei round Era solo una partita di riscaldamento Però so quello che Dai Tu ne hai deciso pure due più di me Come? Vabbè ragazzi abbiamo fatto tipo C'è 30 dell'uccisione e 35 Vabbè ripartiamo subito con l'altra partita Eccoci qui ragazzi Dopo l'annesima figura di merda che abbiamo fatto Vabbè dai E succede E ovviamente io prendo fuoco Vabbè vabbè Sto prendo fuoco Ragazzi Purtroppo non vedete più partite Che duro 40 round da solo Perché io Diciamo Concordo C'è un po' Diciamo L'ho un po' Abbandonato Anche perché c'è la play 4 E non ho nessun congo Oh zio Michele Che ci sta a fa' qui? Bello zio Michele Vabbè Usa la Sons of Patriots Per gli amici Sop No Sop E io rimango il buon vecchio delle Jackson O le games come volete Perché mi chiamo in tutto Ma perché voi fate punti Io sono rimasto a 800 e vado a fuoco Ripeto Che tu cammini in giro per strada Ok ragazzi io apro A casa sta qui Ci sta qui Aspetta io 1700 Ma come mi apro tra poco Siamo al terzo Sì sì Siamo al terzo round Al terzo round ci resistiamo Noi siamo in tre Abbiamo aperto il quinto Se non resistiamo al terzo round Così siamo delle merda Io lo sono Ok ragazzi apro Allora Sop Ho aperto Io devo imparare i tasti E riparo Ho aperto ragazzi Ho capito che hai aperto E dimmi Dammi segni di vita Dissi Ho capito Ma gli vedi un attimo i tasti Hanno visto che ancora deve imparare No ma li so più o meno Più o meno Più o meno Più o meno Che più Non è che si può chiudere la porta Al cacchio Chi è che ha preso l'arma? Io Cap 40 ragazzi Niente riparare la finestrina di solità Sì sì Tira pugni taser Ci farò qualcosa No Raygun Raygun Non ci posso credere Prima arma Non ci posso credere Apre adesso Aspetta No aspetta Cambio l'arma Perché non puoi usare Lancia patate Adesso tutta una merda Mi perseguita sta merda Non può essere Mettiti sulle scale No mi suicido Mi suicido Ma mettiti sulle scale Ragazzi buonanotte Sonnidoro Ma forse non sei morto Ma 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 Mettiamo patate a caso Posso comprare No perché vieni Patate Come è la scatola Patata Patati Patasnella Come a te Vado ma io capite di volar mozza Ma che cazzo Pira Perché sono appena a capa di merda Ma non è giusto Ma Riker pure sotto Che mai si suiciderà Che mai si suiciderà nei due secondi Perché non lo so Si ma non mi lancia Con quella non sparare vicino al muro Che sennò ti rimbalza il proiettico Ecco Anche vicino i zombie Che ragazzi Io Faccio un po' di Cazzo A caso Proprio Ma che gli zombie Arrivano anche dal nulla No Aspetta ragazzi Faccio un po' Ma dov'è Chi è quello Ah sei tu Ok Perché ogni volta Che mi vedi Mi lanci bombe Ma io le lancio a casa Tanto non ti posso Uccidere le bombe Solo le bombe Tu posso ucciderti Ma che è qua I foghi artigli Ma che bersi sono Ragazzi Vai Morelli Chi era qui Ha sparato con la Reagan Aspetta Mi sono rimasto con 20 punti Io 3759 Ma porca puttana Ma perché mi capito Le armi di merda Su da me Ma 750 punti Cosa dovresti Il TSR vuole Non ho il Barrett Oh il far Ah non cambi Non cambiarla Ah eri tu Chi è che l'ha già la madre E tu che hai preso il follo Si Ah ok Il follo è il capo Cagare Io Barrett e Reagan Il Barrett ma c'è Eh per ora Più che altro perché c'è tanto rinculo Per quello Ah Dante ci facciamo un mojito Stop Invece di parlare di mojito Guarda dietro Bamme dee Headshot bitch A me non esce Tu prova Ah ok Io voglio le fare Le armi preferite Si sto facendo Cercando di fare punti Col Ok io le fare Siamo quasi Prenda il giugato Ragazzi E tu lo scappi Poi Che se è lento C'è pure lento A mirare Sto cacchio di cose C'è no Spiega Non è una cosa che puoi farci Ah la vai dormi Ok Io campo un pochino qui Oh guarda E il prossimo risveglia ragazzi Qui scoppa la manetta Vai Ok Sto scherzando Anche perché Oddio Quintorazio Eh però so C'è un casino Questo So Non usare Se mi avrei Anche consumi colpi No ma Ma è bella che me lo sto usando Ah c'è ancora la pistolina So So Vieni qui Tu Qua dentro Di sopra Lo hai Ragazzi qua Vieni sopra Allora Sto facendo i numeri Qua Vieni So Porca Mi sono di qua C'è sti facendo La scampia la casa Cambia la pistolina Sì ma Vuoi capire Dico 750 Ah allora muoi Vai di sotto Fai i bundi Vivi Reloading Bitch Ok no Eh Io chiamo la Python Python E io chiamo Python Dove Tu Allora so Vai di sotto E vai a fare i bundi Grazie Oh che scatole Ti fai da una manuale Sto in turn Z dando bravo su code Ma non ti conviene Perciò un cecchino Sono imprevedibile Potrei ucciderli Ma anche non ucciderli Vieni ci metterò in tania Scusate ragazzi Scusate se mi intrometto Ma io c'ho la sensibilità Ah beh dammi un attimo Porca buttata C'ho la sensibilità 4 Cioè Anche lui c'ho la sensibilità Eh anche lui Aspetta 8 L'altra volta l'avevo messo 8 No 7 Vabbè metta 8 Eh adesso si ok Prima perché E' impossibile Mi raccomando Eh ma qui no Eccoli Muorici Muorici Ma perché cammina su vuoto Questo qui Chi ha cattivato Ma io È Elvis Presley No buono da vicino È Elvis Presley Ma no no Lascio parla Lascio parla Non fa poi i punti Non fa poi i punti Ragazzi io mi sto Preghiamente incazzando Ah Non levo Ah ti ho detto Sì merda Avevo fatto lo so No a merda L'ho visto prima io Tu sei venuto in sopra il culo Da te io c'è il cecchino Lo ricordo E ci metto un po' di più Bello Bello pure te Ah ma Non vuoi morire Soppa vieni qua sto io Porca puttana Mi trovo anche le munizioni Ah cioè Soppa vai a cambiarti Quella pistolina di merda Istante Dai ci prendi l'arma Ti prego E muore Amr Amr Ok sta a posto Niente mi uscito l'amr Culo Ok 5-7 Mi uscito l'amr Orsacchiotto Ma perché ho qui il sangue Vuol dire che cambia la cassa Oh ragazzi Cambia posizione la cassa No 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 Tu rimani qui No no Non può rimanere il sangue Dovai Mi sei messo? Oh porca puttana Ok finito Non l'hai detto bye 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 È vero non l'avevo Io vado avanti Voi cambiare l'arma pure Tanto ormai l'avete fatto a spostare la cassa Ah grazie Io sto a posto di armi Io c'ho l'amr e il regal Ragazzi mi potenzio l'amr Ma che è No ti prego Ragazzi sto potenziando l'amr Quindi copritemi Potenzia quello che ste pare Copritemi Stanno venuti a te Fatto Ma non c'ho l'amr Ma arrivano anche da sopra Arrivano dappertutto Eh sì Sono come il prezzemolo Dappertutto Eh sì Però San Montana Camadondro Ok ragazzi io sinceramente mi sto preoccupando Stanno neanche fuori lì Stanno in un colpo È proprio schifo Ragazzi Qual bar c'è un po' troppa di gente Per i miei gusti Eh in un bar Dai che iniziamo a divertirci adesso Che ci sono migliaia di migliaia di migliaia Oh scappi fuori No No merda No merda Mi sono in più Mi sono in più Mi sono in più Mi sono aperto Mi sono aperto Che poi Dante Mi sono aperto come una puttana Dante Va bene essere vulgari ma non troppo Eh Dante Non so se ci ho fatto caso eh Però zombie ti mette cattive abitudini Nel senso che No a tutti Perché tu hai zombie ogni due secondi ricarichi Poi vai nel multiplayer che ricarichi ogni due tre secondi Ti ammacco un dubbio Non so se mi è capitato No 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 Mamma mia mamma mia Eh sì ma non mi abbandonate qui Ho paura Buoni non posso adesso Sono tipo leggermente in merda Eh le merda non hanno per favore Eh aspettate Che aspettate sono pieno di zombie c'è un orco Eh pure io sono pieno di zombie Mi vogliono fare come mi fanno a cicciolina Dove sei Dante Eh adesso non mi serve più Che uccisi tutti Dov'è la scatola Dov'è la scatola Della Della qua Sì aspetta vengo con te che parla che tanto Ah è posto Uh lele io modifico No Che cazzo non volevo ricaricare Volevo modificare Oddio Oddio Che cazzo è Sopra Vieni a me Ma che casiglio Vieni da a me Eh quello che faccio Capo mio Ale Spano come una Brutta Che brutta Eh eh che Ma coglioni Vai Ok Aiuto Sta stuprando Sta stuprando una zombie Per terra Ti stanno stuprando Sopra C'è la non zombie La che si mangia C'hanno usato con una pampola Sembra la non zombie Che c'è un pompino a Sopra Ma perché sto prendendo In tante terra Ah perché tu Non c'è Juggernaut Eh per quello Mi fai ero piante Ho preso distante ragazzi Dai la Sopra Sta dietro Sta dietro Volevo cambiarla Ok Cambia la tu Cazzo Lancia patate No Non me ne frego La se Ti vorrebbe fregare L'arma È un'arma più curiosa Che c'è Oh ASMR Che merda Vabbè Meglio di niente È l'arma più Schifosa di questa modalità Penso Tanta mola di cazzo S S MR Cos'è Ma è finito Uh prendi la Python Dai buono Guardi di prendere la speedcola E giù Va ti c'è Adesso non può più Che non sa neanche cosa sono Non prendi la cui crema Perché adesso è inutile Se non c'è un'altra roba Prendi Aspetta Guarda seguimi Dove sei Dietro di te Dietro di te Qua Muori Seguimi Ok va Questa qua è la speedcola E quando costa 3.000 Non ho i punti Quando li farai Vieni a prenderla L'altra che devi prendere E installa l'altro edificio qua Si chiama Juggerlat Praticamente è come un'armatura Ah è il coso Oh Nelle guarda che mi è arrivato Nelle guarda che mi è arrivato Sì Le tue armi preferite Certo Ti capitano sempre Non i partiti Ma lo sai che ti Io capisco Ma ti me stavo meravigliando Che ancora non mi è arrivato Qua Ah non ti ho privato Fensito Oh Morelli Io stai Aspetta io mi prendo il tirapugno Swap deve essere animato Strano Aspetta Ma dove vado io Eh te la preoccupio Che cazzo è di sopra La cazzo è di sopra Sì Guarda Come tu hai preso già No Ma tu ma perché sta Da Swap stai con noi Non mi abbandonate più Sei tu che te ne vai Ma io ero rimasto lì Perché non trovo più il Lele Come non trovo più il Lele Swap tu devi seguire a me Ed è il Lele E poi Stavo seguendo Lele E non l'ho trovato Vai di sopra Vai alla finestra Perché non è sceso giù Scusi Cattivo Abbandonate Dai inizio ad arrivare ragazzi Ma io vado Io vado sopra Chi è che sta giù Io vado io giù Ok a posto Allora io sto sopra E copro le tette E che cacchio Ok ma perché Su TheFibesame Non lo devo usare Ok io sto Andando a prendeggiare Ok ragazzi Ma io sto più a fuoco In Anno qua Sempre così Sento Mor E sopra la finestra Dai ragazzi Siamo al quindicesimo E il nostro obiettivo Comunque l'abbiamo raggiunto Dai Tutti e tre insieme Appassionatamente Se lo superiamo Sarebbe una cosa migliore Ottimo direi Ottimo direi Mi trovo nella stessa stanza Di Sasha No non lo uccidete Dai È un mio amico Non lo uccidete in parte Ragazzi basta salutare gente Perché stiamo salutando il mondo Sto riparando 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 Non lo so Però spesso Riparando l'ultima finestra Bello Ma venga a me No fermo Sparate No Ragazzi Lo uccido io Allora Allora Sparate Sparate No faccio Guardate Dai lo spara io Ah è un pezzo di merda Prendilo 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 Oh grazie al cielo Arma Ma muoiono 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 O qualcuno che prenda Arma Potere Ai piccoli Bastanti maledetti Ricordiamo che il sop Comunque sta giocando Ad io Anche senza Niente bonus Si peccato Che mi stanno arrivando Peccato che ti ho salvato Vai Devi pensare alla fine Ma porca Ma porca Ah oh ma Guarda l'altro È colpa mia Si è ucciso Tutto lì Allora Dov'è il sop Ah ecco Molto per te Vai ripara Sopra Ripara E sai come Mi ne sbucano fuori Da davanti E poi Mica c'è il trofeo Che mi occupa Metà schermo Togliti Oh È luce nei loro occhi C'è il trofeo È un trofeo Devo vedere tu Oh porca Aspetta no Su Xbox Non si chiama Trofeo obiettivo Mi pare Eh da No qui su Xbox Si chiama obiettivo Eh sì Vabbè io c'ho abituato Alla play Chiamo trofei Alla fine è la stessa cosa Veniamo a copiare Eh arrivo Ok Ok ci sono Che devi fare Io lo capitevo Ah Oh instant Si instant un corno Io sono a terra Signore Eh vado vengo io Tante tu fai da solo Se ce la fai No Non ti riscippiola Merda Merda Sono anziarmi No Ragazzi 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 Dove No Non mangiavo pure l'arma Io sto con un'arma sola E senza munizione Arrivo Aspetta So poi Attentare anche le spalle Perché io vado Andando a salvare Dante Lancia la scimietta So Dove Dove vuoi Uguale Veloce Sei lanciata Si però sto morendo Bravo Intanto me li distratti Che ne so Saltalo giù Io me li vedo passare avanti Che cazzo Arrivo io Arrivo io Sono tranquillo Sono rossissimo Senza munizione E con un'arma in meno Ragazzi Ah minchia Per un attimo Mi si era buggata La re Cioè I colpi della re C'era scritto zero Ma non l'avevo mai usata Non colpo Scimiette Mia 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 Vai 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 No cazzo Aspetta Ma perché a me Mi sbucano da tutte le pare Prendile Prese Si Grandissimo Vai Ragazzi siamo nella merda Lo capite Si ma è bella Ma già ci metto Andando ci metto Ci metto Lanciata Lanciata Grande Che casino Non ci sto capendo niente Ma questo si è buggato Cioè Gli sparo non muore Dove hai avuto Io ho la sensibilità alta Con la riga È un casino Sparare Ambro Non ci faccio niente Ragazzi Con l'ambro Però non ci ho niente Andà Sop deve essere animato Scimietta Lande Lande Ne è rimasta una Però ragazzi Io sto pure Tentando Eh però Dove è salvarla Sop È utile per la finestra Vai 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 Ma perché è che lo va a salvare Hai salvato Sop Ho già salvato Ma santo Dio Dai prendete i ragazzi Mi dovete prendere le munizioni Me la vendo Eh Dai Come ho capito Anche a me servirebbe Sinceramente Perché l'ambro Mi è finito La riga Poco ci manca Io sto sparando Come se non ci fosse Un domani Sop Però la finestra Sop la finestra Sto a terra Porca puttana Se ho caduto giù Io pure Però il dà non ne ha capito Hai distrari tu Sì Chiarai Aiuto Aiuto Io cosa dovrei dire Arrivo Arrivo Le munizioni Scarseggiano Pur effettivamente Fai E ragazzi Io così Non posso distrarli Però L'ho già fatto Stai venuto Eh ma tanto io Perché adesso Qui c'è qualcuno Che mi serve Che qualcuno Me li distrae a me Che davanti Noi siamo al bar C'è bisogno Finché mi stavo Succidando con la riga Porca puttana Ok Adesso Ho scatenato Sì ma sto finendo Le munizioni Ok 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 Bastardo Maledetto Eh Io ho finito Tutte le munizioni Ragazzi Ragazzi Sì ma le munizioni Non capiscono più Sì col talo balistico Che cazzo ci faccio Al round B Ragazzi Siamo al ventissimo round Carico Lele Caproni L'ho cascato L'altra volta di tutto Eh mi hanno bloccato Stavolta non ci muoio Stavolta non ci muoio Stavolta non ci muoio Mi hanno bloccato ragazzi Sono morto Come si mette Eh perché me l'ho bloccato tutti la Ero incastrato fra Stop e zombie Eh scusa Lele Non potevo muovermi Non ho potuto fermi Eh io pure non Ragazzi noi siamo sopra eh Dante non ti con me starla Perché te posso arrivare Poi da destra Devi andare Mi ha salvato Ecco No no Beh ragazzi Venti round possono anche bastare Io andrei alle conclusioni finali Di questo bellissimo video Cacchio ho fatto meglio Quando ho fatto peggio Adesso facciamo vedere un attimo I risultati Oh maggiore uccisione signori 5 e 35 Ci credo Cuomo che dormiva sul posto 26 volte a terra Beh cacchio Però è arrivato prima volta E te la sei cavata abbastanza Ok ragazzi Conclusioni finali Beh ragazzi eccoci qui Alla fine del video Questo nuovo e primo video Del nostro canale Purtroppo siamo riusciti Vabbè no Ventilando sono buoni Beh ci ventilando Anzi per essere la prima volta I soldi pure Eh a zombie Io non mi lamento Cioè stavo per rendimenti Dormendo a terra Eh però intanto Chillavi col coltello Chillavi col coltello E niente ragazzi Comunque come partita È andata piuttosto bene L'abbiamo provato L'abbiamo provato armi buone Comunque perché io ho avuto un amore Io pure ho provato armi abbastanza buone Ho avuto la mia preferita Purtroppo non ho avuto l'occasione Di togliere il millino Il cecchino E usare il cecchino Che avevo per Pauva Poi è venuto con Dammi In una mappa Come città Che città è comunicata Per il fatto col fuoco Per terra E roba varia Poi è anche piccola Cioè è stretta Con la mappa Quindi non hai tappato Ma andando stretta Ma andando stretta Non è più stretta Il terminal È più stretto Terminal? Eh sì Il pull È la stazione del pull Ma è più stretta Ah sì sì Però Io ho avuto armi Lui pure alla fine Trova anche armi buone Perché ha trovato la raid Tu sinceramente Tu sinceramente Cioè hai preso armi a random Perché Sapete qual è il mio Mi cambiamo di cibo Ma no Sapete qual è il mio parere sul fatto Una botta di sedere così Però va bene È quella milanese Dove siamo marchigiani Vabbè comunque E insomma ragazzi Spero vi sia piaciuto Questo è il primo E nuovo video Del nostro canale Non ci proviamo Ci proviamo Vi vogliamo far divertire Anche se Quando vedete questo video Penso che lo vedete Più sul mio canale O sul nostro Perché lo caricherò Appunto Perché useremo Il suo canale Presto per presentare Questo nuovo canale Esatto E valia Quindi dopo Questo primo video Andrò sia a finire Sul suo canale Che sul nuovo nostro Che poi Appena Faremo il mio Alle sport E stasera Appena Crederemo il canale Comunque questo video Si può stare Ricordiamo Ricordiamo Il tenuto oggi Il 25 25 Agosto 2014 Questa sera Perché siamo In aperto Mi sa che l'orologio Va male Ma non c'era L'orologio Sono le 6.47 Noi stasera Prima di andare a dormire Creeremo una nuova pagina E se ci riusciamo Caricheremo anche Questo video Sul suo canale Non ci dilunghiamo più di troppo Comunque volevo solo Iscrivetevi al canale Appena lo creiamo Diluite le vostre Siamo su YouTube Siamo su YouTube Ricordate Richard Benson Ciao Ti vogliamo Buongiorno Salto Siamo su YouTube Abbiamo salutato di tutto E' a susso Ragazzi Basta Saludiamo Johnny Creek anche Sì Gabby Squared Fabi J No no Fabi J Passaci un po' Di iscritti Su Fai il bravo Hai un milione Che ti costa Due Ce ne servono Anche duecento Tranquillo Ce ne hai un milione Ce ne hai un milione Su Non fare Non fare Ti riappulo Non ti preoccupa Ragazzi sono ingestibili Scusate non riesco a farvi Smetti di farmi parlare Brofist Eh comunque Brofist Bella Brofist Basta Schiaffitto Ciao Ok dai dai Comunità Volevamo presentarvi Quelli che saranno Forse Ripeto forse Perché poi bisognerà Vedere come siamo I progetti futuri Di tutti e tre Cioè i video I primi video del canale Insomma Allora lui Vabbè spiegate Allora Io vorrei partire con Oblivion Certo non tutti Sono amanti Delle savi RPG fantasy Però No vabbè ci sono Tranquillo Sì no Quello lì Lo so Eh io sono uno Non ne sono moltissimi Però ragazzi Essendo che è un RPG Abbastanza aperto Potremmo fare Come la storia originale Come cazzeggiare Come fazzi Quindi Prepariamoci ad uccidere Anche La popolana Però ricordatevi Le guardie su Oblivion Sono peggio Delle FBI Ma peggio Dante Tu cosa avresti fatto Io avevo in mente Di fare una cosa come Sop Ma soltanto Quello facendo Oblivion E invece facevo Skyrim Oltretutto Pensavo pure Di fare qualche gameplay di Castlevania Il primo Lord of Shadow Dai che vuoi Io non ho detto niente Poi pensavo anche di fare Anche in Mortal Kombat No Mortal Kombat insieme Aspetta come pensavo Devi farlo in Mortal Kombat Farò anche Mortal Kombat Il 9 con tutte le fatali Ti farò anche un tutorial Sulle fatali Ti farò varie tutorial Su Mortal Kombat Su Mortal Kombat Ci stai gli incontri Pazzoidi Faremo degli incontri Pazzeschi Ognuno Baraka 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 Go go È il suo preferito No no Per le baracche Vai baraka Poi pensavo Avevo anche altri vari giochi Come tipo A FIFA Street No A FIFA Street No Avevo tipo anche GTA 5 Io ti avviso I scar Tipo Te le ciulano le palle Tra quanto Ti chiederanno Che le hai fatto vedere Dante Fai GTA 5 Perché Farò un paio GTA 5 Farò anche i vari cosi Per la prima volta Qui vi vediamo Questa è un'altra Da Kombat Scusate ragazzi Ma vi metto La mia gioca Voi intanto parlate Con quello che volete parlare Noi intanto parleremo Mortal Kombat Innanzitutto Poi come secondo Ci dovrebbe stare Ghost Recon Sì Volevo fare anche Ghost Recon Future Soldier Era un gameplay Su quel gioco E volevo fare un gameplay Su COD Su GTA Scusate Su GTA Abbiamo giocato a COD Nelle ultime Poche ore E poi Abbiamo giocato Visto che ci hanno giocato Oggi Poi pensavo Come vi ho detto Castelvagna Un paio di pari Un paio di partite Anche a Forza Motorsport Questi vari video Non hanno Motti giochi Visto che C'hai anche Dead Space Potresti fare Un Dead Space Ho pensato Dead Space 1 e 2 Quindi faccio Porca mutana Poi quando mi davano Lo stipendio Il lavoro Prendevo anche il 3 Che è la cosa Che mi interessava Ragazzi Io voglio buttare su Anche un po' Di Crysis Non ci fate caso Non sono forte Però Crysis Lo butto su Ah E se vi interessa Abbiamo Anche software Abbiamo anche Gli emulatori Sia per DS E sia per Per PlayStation 1 Quindi potremmo fare anche Resident Evil 1 Crash Bandi Cotto di tutto Ragazzi Metal Gear Solid 1 Spyro Spyro The Dragon Per farvi conoscere Molto Ricchi di colpi di scena Possibilmente con luce Saranno molto Ragazzi Insomma Una grande avventura Tutti insieme Che spero Mi piacerà anche a voi Comunque Non l'ho detto io Cosa vorrei fare Sì sì Prova E che è sta fretta Sono No no Volevo dire Sono una cosa Non ci fate caso Se non sono forte Però l'ho già premesso Prima di cosa Lo premetterò Su tutte le cose Non è un nerd Non so Cioè Mi piace molto Però non sono Uno di quei nerd Spiegatati Che sto sempre lì Tipo me Devo studiare Per l'università Quindi non vi arrabbiate Se fosse per me Passerei la mia vita Sui videogiochi Però non posso Infatti Volevamo specificare Ne questo Siccome io avendo un lavoro Lui andando all'università Noi caricheremo pochi video Però Lui andava all'università Lui andava all'università Lui andava all'università Diciamo che Questi primi tempi Probabilmente Vedete molti miei video Rispetto di loro Perché io Comunque Non cazzo a fare Perché Prendo a lavorare a gennaio Quindi Ma questo Ma questo Non significa Che non vedrete E' uno scansa fatiche Assumetelo subito Lo faccio per gli iscritti Io faccio per Assumetelo Ah ecco Torno tutto il giorno Vabbè Che cazzo dici Che faccio i video Vabbè Non vuole venire a colazione Non vuole venire a colazione Guardate L'è magro Deve mangiare Su Basta Basta Allora Dico i miei O avete qualcosa No Parlo Allora E comunque E comunque E no Perché Ammazzo E' stato lui Comunque ragazzi Io come primo video Che posterò Sia sul mio canale Lele ti voglio muovere Sei nel cuore Di tutti i marchiciani Adesso Comunque ragazzi Io farò Principalmente Come primo video Che posterò Anche sul mio canale Principale Lele games Ho in mente Di fare La silent tears Pitti E la ragazzi Ci sarà da cagarsi Il nostro Perché Noi abbiamo già visto Vali video del trailer Poi Tutti tutto Io e Lele Quindi L'ho visto anch'io Anche tu lo viste Poi cercherò Cercherò di completarlo Perché ho sentito dire Che non è tanto facile Visto anche i video di Farenz Salutiamo Farenz Ciao Farenz Grande Farenz Bello di casa Io ho cominciato a vedere i giochi Grazie ai tuoi video Ricordiamo No Scusa Farenz Ma io ho cominciato con Gabo Player Gabo di Sperre No Gabo Player A un altro A un altro A un altro A un altro Io lo so Vabbè lui Ciao Ciao Gabo Ciao a tutti e due Anche se non guarderanno mai questo video Per dettagli Non farei Io cercherò di fare Di mandarlo A voi Sì sì Mandalo nel caso di Sperre Che non c'entrano niente Bravo Dante Ah salutiamo i utopi Anche lui No i utopi Cioè Ma i tuoi Ma i tuoi Ma i tuoi Vittorlazo lo sattotto E il tizio qualunque Tutti Cioè Quei tuoi del server Cioè salutiamo i utopi I tuoi Abbiamo detto tutto ragazzi Io spero che questa idea vi piaccia Spero che vi divertiate Spero che godete Spero che Non lo so Invegnate come maiali Esatto In questa avventura Che spero vi piaccia Noi ci proviamo Noi vogliamo farvi divertire Maggiormente il nostro scopo è questo E poi io da tanto tempo Volevo aprire un canale di video Vabbè poi scusa Cioè Divertite le volte Ci divertiamo anche noi A fare quello che facciamo Noi ci divertiamo Per farvi divertire Poi soprattutto ragazzi Io mi diverto a prescindere Vi avverto Se non vedete che Non postiamo un video Per magari una settimana Non vi preoccupate Non siamo morti Abbiamo una vita sociale Anche noi Non sembra Ma ce l'abbiamo E oltretutto Pensiamo anche al fatto Che Che il materiale Video Ricaricheremo anche In bassa qualità Per il fatto che Per adesso Non siamo molto Eh ragazzi Io devo comprare un HDQR Però Dove ho dei soldi Quindi Penso che quando iniziano a lavorare Avrò i miei soldi Tutto Io ci provo Anche io forse Con il nostro stipendio Vedremo Comprerò anche io Vari Vari macchinenti Tra per ora ragazzi Tenetemi Una cosa Andiamo al Livigno A comprare Non c'è l'io Al Livigno Non c'è l'io Va beh Ok Non ci fate Questo Non taglieremo Non sicuro Perché Non vedono Però votando Che te lo compriamo Insieme Quei ragazzi Detto tutto Capite una cosa Cioè Vedete anche Nei nostri panni Non abbiamo Tutta l'attrezzatura Quindi Ci vorrà un po' Esatto Ci vorrà un po' Di tempo Cioè Prima che vediate I video Di Full HD Esatto 1080i P E Cioè Vabbè Ok Non saranno buoni L'abbiamo capito No Insomma Per chi mi segue A me Il mio canale Nelle game Saranno così O' vero Come abbiamo fatto adesso Telecamera Puntata alla tv Classica E sicuramente Anche quei miei Sicuramente Perché Per adesso Non è che posso Fare Però lui Già che fai Cosi su PC Quei Io Io vado random Non vi preoccupate Come capita Capita Ah comunque Ti consiglio Camtasia Come il programma Per registrare Ok Registrare Voi che cosa Mi proponete Ah Youtube Giusto Scrivete qui nei commenti Magari un programma Che volete Certo che non è che Dei programmi Tutto quanto Ragazzi Ragazzi Non mi dite Un programma Che costa 8000 euro Perché se no Vi vengo a cercare Cioè Chi Su Io sono In Vegas L'ho craccato Michele Pensaci tu Ora mi verranno Michele sarà il nostro Anche tecnico Mettiamola così Perché Rappello dove se si è proprio Intra nel Diamo Lo staff Lo presenteremo più Sì sì E niente ragazzi Comunque spero Vi sia piaciuto questo video Questa introduzione Nel nostro Nuovo canale Che ricordiamo si chiama Trial gamers Trial gamers Non ricordavamo Un attimo Trial gamers Trial gamers Trial gamers Trial gamers Fissatevelo a fuoco Nel cervello Che abbiamo Che prima che ci faranno Stai zitto Sto parlando Che prima che ci faranno Domande Sul perché abbiamo Chiamato trial gamers L'abbiamo chiamato così Perché siamo in tre Oltre perché siamo in tre Ma perché faremo I video sui Su tre piattaforme Diverse Sony PlayStation 4 Microsoft Xbox 360 Poi magari Xbox One Te la prenderai E due pc Computer Computer pc Cioè Sì computer E se troverò Forse la mia Xbox Forse play 2 ragazzi Forse ci butto su un po' Di retro Vai play 2 E comunque Il titolo che farete Magari in video insieme Per capitolo di film Sì sì Noi faremo Sicuramente Vedete sicuramente Molte cop Due Sì sì Io che lo prendo a testate Perché non mi fa vincere Io ovviamente sono lo sfigato Che abito in Lombardia E non posso fare un film Ma dove è Marco? Oh Marco Marco Che speriamo si aggiungerà anche lui Alla nostra grande famiglia Famiglia Perché l'avevo molto così E niente ragazzi Grande famiglia Siamo in tre Neanche una donna E' un po' preoccupante E' una grande famiglia Ah comunque sia Usiamo anche Danilo e Francesca Che sono dovuti andare via Prima di Ciao Danilo Ciao Francesca Il nostro cameraman E la nostra mascotte Che hanno riso Cioè la prima parte del video La prendessi di ridere Come delle bestie Come le bestie Ciao Marco Non vedo la tua nuova serie Ciao Massimo Ok Comunque Come stavamo dicendo Michael Non è che vorresti No eh Vieni qua tu SPQR Dai Sono porci questi romani Lo sapevo Ma i romani ci metteranno Dislike Per colpa tua No Forza Roma Io dico Roma Lu pacchiotta nel cuore Basta Fai il leccaculo Basta Fai il leccaculo Comunque ragazzi Io Concludiamo Questo video per favore Per raggiungerci Allora Spera vi sia piaciuto Questo video Presentazione Non lo so Mettetela come lo volete A noi è piaciuto Anche a me Ci siamo divertiti A farlo Poi saranno Cazze deciderlo A noi è il video Vabbè lo dici Ci diciamo Perché stiamo Questa mano Dai E Mettra sulla partita A code Dai Quello lì E ragazzi Spero vi sia piaciuto Iscrivetevi Commentate E mettete un bel like A questo video Al canale Dovete iscrivetevi A un nuovo Sì Al gamers Ragazzi Ricordate Al gamers E Ragazzi Ci vediamo Al prossimo Video Bene ragazzi Bene ragazzi